Siamo tantissimo alla Diocesi di Padova per la partecipazione del vostro Don Gabriele Pipinato e Vicario Episcopale per i beni temporali della Diocesi di Padova al secondo Reflection Day europeo sulla Laudato Si è un momento molto importante per la Chiesa il Papa ci chiama a una urgente azione per la cura del creato perché il grido dei poveri e della terra ci interpella ogni giorno voi rappresentate veramente ciò che significa essere profetici ciò che il Papa nella Laudato Si ci dice che l'istanza locale può fare la differenza mentre l'ordine mondiale esistente si mostra impotente ad assumere responsabilità vi ringraziamo moltissimo per questa testimonianza che voi porterete insieme a tanti altri rappresentanti che parteciperanno da tutta Europa perché come anche voi spesso dite parlando della vostra esperienza la conversione ecologica è anche una conversione comunitaria e anche noi come realtà europee di conferenze episcopali siamo veramente impegnati in questo sforzo di comunità, di unità di cercare insieme nella sima e nell'amicizia reciproca vie nuove di collaborazione perché i poveri non possono aspettare perché il grido dei poveri e della terra ci interpella a fare qualche cosa oggi, ora, grazie ancora alla Chiesa di Padova